Il viaggio di Papa Francesco negli Stati Uniti è iniziato davanti al portico sud della Casa Bianca, Washington, accolto dall'entusiasmo di 20.000 ospiti raccolti nel parco, tra i quali molti immigrati. Dopo il saluto del Presidente Obama, che ha ricordato il grande servizio della Chiesa Cattolica americana a favore degli ultimi e le qualità uniche del Papa come persona, Francesco, in inglese, si è presentato come figlio di una famiglia di emigranti. Famiglie simili, ha aggiunto, hanno in gran parte edificato questa nazione. I cattolici americani, ha spiegato il pontefice, sono impegnati a costruire una società veramente tollerante e inclusiva e a difendere la conquista del diritto alla libertà religiosa. L'ho dato l'impegno ambitalista del Presidente Obama, Papa Francesco ha ricordato che il cambiamento climatico impone una nuova cura della Casa Comune e la modifica di un sistema che ha trascurato milioni di persone, esclusi come la nostra Casa Comune, che oggi bussano con forza alle nostre case, città, società. Il Papa ha anche apprezzato gli sforzi compiuti per riconciliare relazioni che erano state spezzate, con chiaro riferimento al digelo degli Stati Uniti con Cuba, e si è augurato che gli americani di buona volontà sostengano gli sforzi della comunità internazionale per proteggere i più deboli nel nostro mondo e di promuovere modelli integrali e inclusivi di sviluppo. Dopo aver salutato gli invitati dal balcone del Portico Sud, il Papa e il Presidente Obama hanno raggiunto lo studio ovale per l'incontro privato che è durato oltre 40 minuti.